Sono Andrea Fiore, Bar Manager di Locale Firenze. Oggi prepareremo un Gimlet chiarificato, Gimlet Clear. Nella ricetta troviamo 45 ml di Tancari 10, 15 ml di Cordiale Citrus e 15 ml di Pompelmo e Mandarino chiarificato. La nostra tecnica di preparazione sarà Steer & Strain, quindi si utilizzerà un mixing glass dove vado a vertere all'interno la dose del gin. 45 ml. Poi andiamo a mettere i 15 ml del nostro Cordiale e infine il nostro succo di Pompelmo e Mandarino chiarificato. La parte fondamentale è il nostro ghiaccio e quindi con l'utilizzo di un bar spunto a bar andiamo a raffreddare gli ingredienti. Per una corretta diluizione e un giusto raffreddamento andremo a fare circa una novantina di revolution, quindi di giri. Alla fine con l'utilizzo di uno strainer andiamo a versare il liquido. Andiamo a vertere leggermente dall'alto per ottenere una maggiore ossidazione. E infine andiamo a scegliere un germoglio come guarnizione di scisso rosso. Signori, il drink è servito.